Da Vallefoglia a Pesaro in 10 minuti presto sarà possibile. Sicuramente non con auto che voleranno come ci si poteva immaginare il futuro decine e decine di anni fa, ma attraverso un autobus elettrico che circolerà in una corsia ad esso riservato. Se le grandi città europee si sono già mossi in anticipo su questo fronte, nelle Marche si tratta di un progetto pilota, diventando il secondo caso in Italia dopo quello avviato in Umbria, che potrà valorizzare così l'asse introterra costa aprendo gli occhi al domani. Si è raggiunto una ipotesi, sulla quale noi esprimiamo grande soddisfazione, di un pullman rapido, Vallefoglia a Pesaro, questo comprensorio dove c'è già il sistema della circolare destra e sinistra, che consenta di fare, mentre la circolare sono a mezz'oretta per andare a Pesaro, in 10 minuti si va in una corsia preferenziale, elettrico, come nelle grandi città europee. Una novità all'insegna della sostenibilità sganciata dall'assessore regionale Baldelli in occasione dell'incontro sui fondi europei destinati alla regione Marche. Su 11 milioni di contributi per lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico sostenibile, una sostanziosa fetta la regione la riverserà per finanziare l'idea di questo collegamento futuristico. È un investimento importante che cambia il modo di approcciarci anche ai posti di lavoro, perché è chiaro che se uno ha queste due opportunità ci sarà un drastico calo dell'inquinamento atmosferico, un drastico calo dell'uso del mezzo privato e un fortissimo aumento del mezzo pubblico, c'è l'utilizzo del mezzo pubblico e spero quando firmeremo l'accordo con i sindacati delle imprese e dei lavoratori che magari, come è avvenuto, io l'ho vissuto direttamente sulla mia pelle, l'avvonamento dell'autobus era a totale carico della ditta, dell'impresa, magari metà e metà, però è anche un'integrazione salariale, quindi riduzione degli incidenti, molti dei quali anche mortali, un uso nella logica della sostenibilità dei mezzi pubblici e più macchine dentro il garage. Secondo lei, conoscendo il territorio di Vallefoglia, dove sarebbe più opportuno costruirlo? Intanto bisogna capire se quei soldi sono immediati, i tempi, e poi bisogna capire normalmente, perché dove c'è la strada, la viabilità, di solito si fa anche il percorso ciclopedonale, la ferrovia e anche un pullman veloce, si tratta di studiare anche tecnicamente le soluzioni migliori, meno costose, più vantaggiose.